Si scaldano i motori, prima delle elezioni regionali iniziano anche i primi veleni, la Lega in particolare contro i furbetti dell'ultimo minuto. Il portavoce regionale, Francesco De Santis, parla di un centrodestra bruzzese forte, con la Lega che si conferma a forza di governo equilibrata e coerente. Ma la stoccata, anche se non lo dice apertamente, è verso l'assessore Nicola Campitelli, uscito dalla Lega, e pronto a candidarsi, secondo i ben informati, con Fratelli d'Italia, con una lista civica. La Lega sta crescendo tanto sul territorio, in vista del prossimo appuntamento elettorale per le regionali, tanti gli amministratori che si avvicinano al movimento, tantissimo l'entusiasmo, nuovi ingressi importanti, come quello appena chiuso a Pescara, l'accordo con azione politica di Zelli. Siamo sicuramente la forza di governo più radicata sul territorio, più forte. Non è che non ci va bene qualcosa, semplicemente noi abbiamo fatto della coerenza alla cifra del nostro stile e del nostro modo di fare politica, lo abbiamo dimostrato in questi anni, e quindi volevamo semplicemente sottolineare e ribadire un messaggio. Abbiamo invitato tutta la coalizione a stare attenti a promettere ricandidature a chi ha scelto percorsi diversi rispetto a quello della coerenza nei confronti del mandato elettorale con gli abruzzesi e con la coalizione del centrodestra. Intanto, sulla data delle prossime elezioni regionali, si sta ragionando, ma il presidente Marco Marsilio ha già incontrato la presidente della Corte d'Appello e sta sentendo anche i presidenti delle altre regioni, date ipotizzate 17 marzo o 24. Ci sono delle procedure in corso, la scorsa settimana il presidente Marsilio ha anche per garbo, per forma e per sostanza incontrato il presidente della Corte d'Appello, Franca Bandera, con cui è necessario raggiungere una intesa, anche perché la Corte d'Appello svolge tutte le procedure burocratiche collegate al voto. Noi abbiamo l'intesa di massima nell'indire in tempo velocissimo la data e le elezioni per giungere a un voto entro il mese di marzo del 2024. Chiaramente non siamo l'unica regione in Italia che va al voto nel 2024. Il presidente Marsilio sta facendo ultime consultazioni con il presidente del Piemonte, la Basilicata, la Sardegna, per giungere ad una data che non spezzetti il voto in Italia in più occasioni e faccia diventare ovviamente questa una pre-campagna elettorale diffusa sul territorio. Ritengo che il 17-24 marzo siano date presumibili. Grazie a tutti.